Chiosco, si vedeva che eri preparati Un c'è cos' Un chiosco Un chiosco Un chiosco Un protoneiger Un protoneiger Un protoneiger Un protoneiger Un protoneiger Un protoneiger Beh, la parte dell'atto pitti L'atto migliore Non lo so già oggi, non lo so Un chiosco Un protoneiger Quanti comprai Un colore 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 non si vede che siamo preparati alla riflessione, deve essere deciso, pischietta no, devi fare la parte della parte dell'unno ah beh via via devi fare il numerato di un nuovo indifferente, indifferente, simpone va bene c'è questa scritta sono Gesù ciazza o tramunto tramunto eh tramunto sono Gesù, ci vediamo queste lezioni, leggi la sacra bibbia tramunto ad avvenire ad avvenire ad avvenire ad avvenire adesso voglio continuare a fare i disinvolti un po' la disinvolta con la faccia degli stolti come uno che ha la mutanda sgommata eh ti pareva che la tua non doveva essere registrata ma ora le ha comprate nuove adesso sono nuove come è la mutanda nuova cinque mutande nuove ti ha fatto l'offertona le calze le calze no non ce l'avevo lì ecco ma adesso sempre due paia lui le mette le lava e le se le rimette bagnate no asciugano eh se le lavo immediatamente asciugano se le asciughi la sera la mattina le trovi asciughe cioè se le lavi la sera le trovi asciughe la mattina un po' umide dove le appende però me le metto tirate su se le asciugano poi subito ma dove le appende? ehm nell'appendino se le appende è chiaro che c'è un appendino no appendino con la finestra a me si apre solo un pezzettino ma sulla via Roma? si no ma all'interno però prende aria hai capito? le mie non si apre come le tue complete si apre solo si apre? la mia si apre solo ma figurati ci sono stato un mese in quella 607 non so come si apre si apre tutto lo so e ti sto dicendo che lo so non c'è caldo da tutto il giorno aperto la io ho spento il coso anch'io lo tengo sempre e poi tutto tu tieni chiuso il la venta anche se tengo chiuso tutto caldo soltanto per raggiungere il coso al di là vabbè se ce l'hai sempre spento devi spostare il televisore in avanti non ci sono nella balena giurale da do azionare ah sì no beh io ci arrivo ah e io ho non le bouccia le 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 e comunque ci ho pensato anch'io ho detto cazzo potremmo metterlo un po' più questa è venuta bene anche se lo prende per metà non c'è chi la pone lontano assai quello più e chiaro ha vista potrebbe essere chi poi c'è da uomo forse è stata la sandra andami Ecco a te, tra un po' arriva il tramonto, tra un po' arriva il tramonto, ingresso pedonale, in collaborazione volontaria, questo luogo è stato realizzato a propri spesi, senza scopo di lungo, gestito in privato, in onore della porcata, spara cavallo, dettato l'ingresso alle moto, alle moto, un motore, un motore, e tu un motore non lo piglio, non ci sta a bollo, assicurazione, figurati se quelli lo pagano, pagano la notte, questi soldi, sta a scendere